In questa lezione conclusiva proponiamo una panoramica sul tema dell'interoperabilità e della convergenza delle tecnologie inerenti alla rappresentazione, alla simulazione e alla gestione di dati relativi all'ambito architettonico e urbano con riferimento all'ambiente GIS. Senza entrare troppo nei dettagli operativi, mostriamo in particolare alcune strategie per arricchire il contenuto informativo e semantico dei nostri modelli digitali 3D, facendo opportunamente dialogare vari ambienti software. La digitalizzazione ha favorito una crescente comunicazione fra ambiti tradizionalmente separati, promuovendo anche la creazione di nuovi paradigmi operativi. Il disegno CAD, inteso come tecnigrafo potenziato o tecnigrafo 3D, ha di fatto rivoluzionato il mondo della rappresentazione grafica. Tuttavia, esso non gestisce dimensioni informative che vadano oltre gli aspetti geometrico-spaziali della rappresentazione grafica. Ad esempio, proprietà e comportamento fisico dei materiali, funzioni e categorie semantiche degli elementi urbani e dell'architettura non vengono registrati in ambiente CAD, dove gli elementi costitutivi sono essenzialmente punti, curve e superfici o solidi, quotature, annotazioni testuali e grafiche. In ambito architettonico, il paradigma BIM, acronimo che sta per Building Information Modeling, ha aggiunto ulteriori layer informativi alla tradizionale modellazione geometrica CAD. Nel modello BIM, ad esempio, una porta o una finestra sono sì composte da linee e superfici, come in un modello CAD, ma sono anche univocamente identificate per una serie di ulteriori dati e parametri che le individuano rispettivamente come oggetto porta o come oggetto finestra. Parimenti il GIS, Geographic Information System, aggiunge layer informativi alle rappresentazioni cartografiche urbane e territoriali. Consente, ad esempio, di registrare categorie e funzioni degli edifici e ulteriori dati che caratterizzano lo spazio reale, collegandoli e riferendoli alle corrispondenti configurazioni geometriche che ne precisano univocamente la morfologia, consentendo altresì la compresenza di carte che utilizzano differenti sistemi di proiezione cartografica. L'interscambio tra GIS e CAD, al pari dell'interscambio fra BIM e CAD, è divenuto dunque un aspetto cruciale nella formazione e nella professione dell'architetto. Nel caso dell'interscambio fra ambienti GIS e CAD, si può procedere in vari modi e secondo vari registri di complessità. Ne illustriamo brevemente alcuni. Un primo modo, più semplice di cui abbiamo già parlato, consiste nell'utilizzare il formato DXF come vettore di interscambio dei dati geometrici fra i due ambienti software. Cosicché, selezionato un layer in QGIS, lo si può esportare in formato DXF e quindi importare direttamente in Rhino, con l'ulteriore vantaggio che la georeferenziazione del file GIS in uscita, risulta leggibile anche in ambiente CAD. L'allineamento dello spazio geometrico nei due ambienti software apre quindi interessanti possibilità di interscambio e condivisione del lavoro. Ma oltre agli elementi geometrici dai database GIS e BIM, i ai relativi dati di georeferenziazione è talora necessario importare in ambiente CAD una serie di ulteriori informazioni, non geometriche, che integrino i dati metrici e grafici delle mappe. Ciò non sarebbe possibile nel puro ambiente CAD, ma la convergenza tecnologica offre oggi alcune opportunità. Ad esempio, esistono numerosi plug-in per Grasshopper, che è a sua volta un plug-in parametrico di Rhinoceros, che consentono tali operazioni, tra cui Mercat, ELK, TT Toolbox e 8IT. Per fornire un esempio delle potenzialità sottese al loro impiego, fra i tanti possibili ci occuperemo di quest'ultimo, AT-IT, in quanto piuttosto facile da utilizzare e gratuito. Il plug-in consente due procedimenti essenziali. Il primo riguarda l'importazione diretta, ma parziale, da un database cartografico online, in questo caso OSM, OpenStreetMap, definendo l'estensione dell'ambito geografico prescelto durante l'importazione. Il secondo riguarda l'importazione completa di un database relativo a un'area geografica di estensione limitata, preventivamente salvato, ad esempio, mediante QGIS. Qui mostreremo quest'ultimo metodo. In QGIS salviamo singolarmente i layer che intendiamo esportare. Per ciascuno di essi apriamo il menu contestuale col tasto destro del mouse, poi col tasto sinistro selezioniamo Save Vector Layer S. Nel relativo menu di esportazione, selezioniamo il sistema geografico di riferimento CRS, Common Reporting Standard, il formato ESRI Shape File, dove ESRI sta per Environmental System Research Institute, il nome del file, infine i campi del database che vogliamo esportare con Select Fields, nel nostro caso tutti. Definiamo ora l'estensione dell'ambito geografico che ci interessa con il comando Extend, nello specifico Map Canvas Extend, cioè l'estensione inquadrata al momento. Salviamo il nostro layer, ripetiamo l'operazione per tutti gli altri layer. Apriamo quindi Rhino e Grasshopper, in cui abbiamo preventivamente installato il plugin Add IT, e importiamo ancora una volta singolarmente i layer appena salvati. L'importazione in ambiente Rhino avviene tramite Grasshopper, collegando i seguenti componenti. File Path, che consente di scegliere il file SHP del layer da importare. Imp at IT, che consente di leggere il file ed estrarne i shapes and features, cioè forme geometriche e database ad esse legato. Database at IT, che consente di visualizzare in Rhino le geometrie estratte. Questo componente, nella logica GIS, permette anche di filtrare le geometrie in base alle features, cioè ai tipi di dato e ai relativi valori che vi si riferiscono, ad esempio edificio, strada, nuova costruzione, funzione d'uso, eccetera. Ripetendo l'operazione per tutti i layer, e avvalendoci di opportuni processi algoritmici che sfruttino la ricchezza dei dati contenuti negli shapefile, è possibile visualizzare l'intero ambito urbano relativo ai layer esportati da QGIS in modo parametrico e interattivo e al contempo secondo una logica GIS. Si tratta di funzionalità avanzate che riteniamo utile citare anche se non saranno qui approfondite. Utilizzando Baking Grasshopper è inoltre possibile creare geometrie native Rhino, differenziandone a piacimento le caratteristiche grafiche in base ai dati estrapolati dal database GIS. Ad esempio, possiamo attribuire colori o materiali alle varie categorie di oggetti caratterizzanti il contesto urbano di riferimento, asfalto per i viali, erba per i prati, eccetera. Un'alternativa al Baking è costituita dalla preview di Grasshopper che, essendo dinamica, consente di simulare modifiche in tempo reale. Infine, sempre in linea con il concetto di tecnologie convergenti, mostriamo come sia possibile utilizzare un motore di gaming, di quelli impiegati nei videogiochi per intenderci, per la rappresentazione architettonica e urbana, gestendo anche dati geometrici di origine GIS. Un primo modo consiste nell'importazione in ambiente gaming, ad esempio a Twinmotion, delle geometrie appena create in Rhino ed esportate in formato FBX, ovvero Filmbox. In questo caso è consigliabile operare con solidi o polisuperfici chiuse. Dovremo pertanto trasformare le superfici in estrusioni o comunque in entità geometriche dotate di un proprio spessore, ancorché assai ridotto. Di più agevole uso, anche se con opzioni più limitate, è lo strumento di importazione diretta da OSM, Open Street Map, in Twinmotion. Basterà infatti selezionare il menu Context e quindi Urban. Si seleziona quindi l'area da includere nella simulazione urbana con Zone to Grab e si procede attivando il comando Grab. Il risultato è una serie di geometrie editabili separatamente, con un notevole grado di flessibilità nell'editing. Ad esempio, possiamo inserire un nostro modello CAD 3D all'interno dell'area urbana catturata, modificando, addirittura cancellando uno ad uno, i volumi importati da Open Street Map, che si sovrappongano o interferiscono con quelli del nostro modello. Dato che Twinmotion lavora sulle geometrie GIS senza georeferenziarle, il modello risultante sarà sempre centrato sull'origine degli assi XY, il che va tenuto presente in caso di importazioni successive di dati, ad esempio da Rhino, che andranno allineati a tale riferimento. Sono quindi evidenti le potenzialità di tali approcci basati sul principio delle tecnologie convergenti, non solo per lo studio e l'analisi dei luoghi, ma anche e soprattutto in quanto efficaci strumenti di accompagnamento e supporto alle varie fasi della progettazione architettonica.